Nelle Marche ci sono 1100 persone malate di alimentazione, ogni anno 230 nuovi casi. Anoressia o bulimia o ancora obesità, solo per citare i più noti disturbi legati al cibo. Una sindrome in costante aumento che colpisce soprattutto i giovanissimi tra i 12 e i 25 anni per anoressia e bulimia, la maggior parte donne, e i bambini per l'obesità. Una malattia che ci colpisce nel bisogno primario, quello del nutrimento, e che arriva in una delle fasi più delicate. Per dare una risposta a tutte queste persone, ora arriva ad Ancona il centro ETA, specializzato nella cura del disagio psichico e dei disturbi alimentari. La malattia dell'anoressia e della bulimia è un'epidemia sociale ormai, e purtroppo è in costante aumento, soprattutto nelle fasce di età più giovani. Questo centro nasce per dare una risposta sul territorio locale e regionale a questi disturbi e poter fornire gli strumenti alle persone affette da queste patologie e ai loro familiari per trovare una risoluzione. Il centro interregionale ETA si trova in Piazza Diaz, nel capoluogo.